Quando sarà, sarà, è una cosa che faccio con i miei soldi, quindi non anche con i miei tempi, non tutte le cose, no, cerco di fare, cerco di capire, perché, scusate ragazzi, perché sono tutti in Italia, non fanno domande tra bocchetto, con le mie schede, qui stiamo parlando le cose che fanno con i miei soldi, con i miei soldi, cioè, qui scommetto i miei soldi, io spero di diventare entusi se ne fanno andando bene, però, non ho capito, perché il primo riflesso condizionato, il giornalistico è di andare a cercare dov'è l'inghippo, la cavola, la cosa che non funziona, come mettere contro l'editore, questo è davanti, cioè, no, no, è così ragazzi, cioè, qual è la domanda, perché cosa serve sapere quale sarà la volontà, perché non me l'ha chiesto nessuno, perché fanno un po' di giornalisti, perché non fanno un po' di giornalisti, che cosa ce l'ha aggiunto, un attimo, che cosa?